Buongiorno, ben ritrovati alla rassegna stampa del mattino, sono le 7, siamo in diretta sul canale 17 di Fano TV per sfogliare i giornali, come di consueto tutte le mattine, i giornali che abbiamo selezionato per voi in questa rassegna stampa che ci vedrà insieme fino alle 7.30 del mattino, poi ci sarà in diretta dalla Santa Casa di Loreto e invece la Messa, questo lo dico per chi ci segue in diretta. Allora, con ordine andiamo a vedere il calendario del giorno, oggi la Chiesa fa memoria della dedicazione della Basilica di Santa Maria Maggiore, il sole è sorto alle 6.03 e come vedete cominciano ad accorciarsi i giorni, tramonterà alle 20.31. Anche oggi sarà una giornata, secondo il bollettino della protezione civile delle Marche, con un po' di variabilità, anzi temporali, precipitazioni a carattere di rovescio più insistenti ed abbondanti nel settore pesarese nella mattinata di oggi e poi nel settore meridionale invece durante il pomeriggio. Localmente i fenomeni potranno risultare anche di forte intensità, le temperature sono in diminuzione. Per la giornata di domani il tempo ancora sarà perturbato sugli Appennini, mentre migliorerà sulla costa adriatica. Venerdì 7 tornerà l'estate in qualche modo, quindi con cielo che sarà certamente nuvoloso e anche con qualche precipitazione sui Sibillini, ma parliamo sempre dell'Appennino, mentre sulla costa e quindi per chi desidera andare al mare venerdì potrebbe essere la giornata buona. E questo lo diciamo soprattutto per quei turisti che sono magari qui arrivati per questa settimana e che hanno dovuto organizzare programmi alternativi al mare in queste giornate che sono particolarmente piovose. Ma comunque abbiamo anche un bellissimo entroterra, abbiamo delle terre molto belle da visitare, dei posti molto belli da visitare. E allora adesso invece andiamo a vedere se Riccardo mi dà l'ok. Non ce l'abbiamo. Allora riproviamo se è il caso, intanto io vado a leggere i giornali e comincio con la prima pagina del Corriere Adriatico. Questa è l'edizione di Pesero. Via alla demolizione della Lighieri. Affidato l'incarico di supporto alla RUP per completare la progettazione, bando di gara per la ricostruzione, approvati anche i lavori di manutenzione per altre scuole per un investimento di oltre mezzo milione. Parliamo dunque di una scuola pesarese. Mentre a centro pagina nubifragio, Marotta sott'acqua, un pomeriggio di paura, ieri dopo la forte pioggia che ha causato disagi notevoli perché ha allagato praticamente tutti i sottopassi da Torrette di Fano fino a Marotta. Parliamo dell'epidemia anche. Nelle Marche resistono 164 comuni liberi dal virus. Non solo Monte Copiolo, come era annunciato dopo il focolaio divampato per una cena tra ex compagni di classe, ma anche altri 12 comuni marchigiani tornano in area contagio. I comuni marchigiani immuni in questa fase sono in tutto 164, sommando i 27 che da febbraio non hanno mai avuto un contagiato. Mentre le altre notizie in breve, sempre da Monte Copiolo, test sotto il diluvio per il tampone in fila a 250 persone, a Fano spaccio controllato dagli albanesi, caccia il grossista, a Gabiccia una violenta rapina in casa, un'anziana imbavagliata e rinchiusa nella sua camera. E poi la notizia nelle pagine sportive è che Gabellini ha venduto il 100% dell'Alma Juventus Fano. Dunque Gabellini da oggi non è più il presidente del Fano, la palla passa a Offidani. Il club dunque finisce nelle mani di un San Benedettese. E poi capitale della cultura, Fano e Dancona, tra le candidate per il titolo 2022 in corsa con altre 26 città. E adesso il resto del Carlino. Anziana sequestrata e rapinata, questo è il titolo d'apertura, devono, anzi la scusa per entrare in casa è devo controllare i rubinetti, poi entra in casa con un complice, imbavaglia la donna e svuota la cassaforte. A centro pagina la fotografia invece di questo giovane Matteo Signoretti, 23 anni, con la denuncia in mano presentata ai carabinieri e che è stato pestato dal branco. Sei persone, sei albanesi che lo hanno accerchiato e lo hanno pestato. Tutto questo fuori dalla discoteca. Via Lamarca, il ponte fa acqua, il comune dice presto gli ultimi lavori, dopo la riapertura ancora c'è qualche defezione, vedete qui tutta l'acqua che sta scendendo, soprattutto nelle giornate in cui c'è tanta pioggia, si parla di infiltrazioni ma i lavori non sono ancora terminati. Poi c'è anche la notizia da Fano che il re della Thailandia è arrivato in città per fare shopping, non è venuto qua per comprare gioielli, bensì barche. Il ministro Bellanova invece faccia a faccia con gli agricoltori verso le regionali, ieri fatto tappa nelle Marche, dopo Ancona è venuto anche a Fano. Il calcio anche sulla prima pagina del resto del Carlino, Alma, cessione, sorpresa, Gabellini lascia, club venduto a Enrico Fattò Fidani di San Benedetto del Tronto. Sul fronte del basket ecco Filippoviti, VL, faremo grandi cose, presentazione per l'ungherese, Repeggia, una garanzia, dice, allenò mio padre. Allora andiamo nelle pagine interne, ripartiamo dal maltempo, il maltempo di ieri arriva il nubifragio, titola il Corriere, Marotta sott'acqua, sottopassi allagati, strade transennate, per un'ora e mezzo si scatena un downburst, 15 chiamate di soccorso ai vigili del fuoco, danni e disagi, un treno regionale resta fermo per mezz'ora, piano marina, paura tra residenti e turisti. Come abbiamo detto intorno alle 13.30, tra le 13.30 e le 15.00 in molti si sono dovuti rinchiudere dentro gli hotel, mettere in sicurezza le automobili per paura della grandine che quindi non rovinasse la carrozzeria. Insomma tutto questo per un paio d'ore che poi al termine appunto di questo bifragio gli effetti si sono visti soprattutto nei sottopassi, qui il Corriere Adriatico pubblica tre notizie di tre altrettanti sottopassi, quello di Torrette, 50 cm d'acqua, quello di Ponte Sasso e qui siamo sotto il comune di Fano, poi quello di Marotta però è il sottopasso pedonale che vedete nella fotografia invece qua. E poi c'è, come racconta Zucchere questa mattina, è diventato virale un video che tra l'altro troverete sul nostro sito internet occhialanotizia.it che vi abbiamo fatto vedere anche nel telegiornale, ve lo riproporremo anche oggi, il video dell'acqua che esce dai servizi igienici all'interno di un hotel in via Fadibruno. È un video piuttosto davvero impressionante, fa capire davvero la forza dell'acqua. Al via lo screening di massa invece il titolo sulla pagina 2 del Carlino di oggi, in 260 rispondono all'invito a Montecopiolo, prima giornata di tamponi, noi responsabili. Domani ultima sessione, sono attese in tutto 900 persone, il sindaco dice dimostreremo che siamo puliti. Sabato i risultati. In 260 si sono presentati ieri mattina in piazza San Michele Arcangelo, la villa grande di Montecopiolo, dove era stato allestito un drive-in per sottoporre a tamponi l'intera popolazione del piccolo comune tra Montefeltro e Romagna. Un invito, non un obbligo, lo ricordiamo, rivolto ad una potenziale platea di 900 persone che si ripeterà anche nella giornata di giovedì, con gli stessi orari mattina e sera. Intanto oggi i tamponi hanno preso la strada per Ascoli, dove saranno processati. Venerdì arriveranno anche quelli della seconda tranche che si spera sia corpose. Dunque si spera soprattutto che a sottoporsi ai tamponi sia davvero tutte le 900 persone, tutte le persone che appunto fanno parte di questo paesino. Tutto questo poi tra l'altro è avvenuto in una situazione poco agevole perché ieri mattina anche a Montecopiolo pioveva abbondantemente, una pioggia torrenziale, scrive Iacomucci questa mattina, a riparo certamente dalle tende allestite per l'occasione sotto i portici del comune da cui il sindaco Rossi osservava con piglio severo il procedere dello screening. L'Asur invece ha messo in campo una piccola task force di 10 operatori tra medici, assistenti sanitari e amministrativi. Ora, per quanto riguarda il bollettino, sempre dal Corriere Adriatico, crescono ancora i ricoveri, continuano a crescere negli ospedali, due nelle ultime 24 ore, quindi un totale che sale a 15, 11 più nell'ultima settimana, insomma. Sono 10 quelli assistiti a Pesaro, dove erano 9 e tra questi anche una signora ricoverata nel reparto di ginecologia. e poi 9 a malattie infettive. I nuovi contagi accertati ieri sono due, entrambi nella provincia appunto di Pesaro Urbino, però ricordiamolo, nessuno di questi ricoverati si trova in terapia intensiva, quindi nessuno è intubato, tutti vengono curati, sistemati, molti di questi comunque presto torneranno a casa. Tutti torneranno a casa, ma molti di questi torneranno presto a casa, tutti torneranno a casa. Violenta rapina in casa, invece siamo a Gabice Mare, anziana imbavagliata e chiusa in camera, falsi traulici che le ficcano una maglia in bocca e per coprirsi la fuga tagliano la corda della tapparella. È una brutta vicenda che è successa a Gabice, siamo sempre in provincia di Pesaro e Urbino, ad una donna ai danni di una donna anziana di 87 anni, costretta a vivere dunque lunghi momenti di terrore. È successo intorno alle 10.10 di ieri mattina nella zona di Via Romagna. Mentre questa è l'altra pagina che riguarda il test che c'è stato ieri mattina appunto a Montecopiolo, il DREV test sotto il diluvio, in fila oltre 250 persone per il tampone. Queste sono le immagini. Tra coloro che si sono sottoposti all'esame c'era anche un signore di 90 anni e un bambino di 3. Ecco, questo per far vedere insomma che tutti quanti con senso di responsabilità hanno aderito a questo invito. Il Covid non piega i pesaresi, nuove imprese superano le chiusure. È un dato che fa riflettere e che è anche di buon auspicio speriamo. È un'indagine che è stata fatta dalla CNA. 241 sono le aperture contro 167 chiusure. Un saldo dunque positivo di 74 attività. Quindi i dati sono questi. Un segnale interessante, anche incoraggiante per il tessuto imprenditoriale della provincia di Pesorubino, ha commentato il segretario della CNA Moreno Bortoni. Non bisogna farsi però illusioni. Dice se si considera la componente artigiana dell'imprenditoria pesarese infatti si vede che nello stesso periodo le cessazioni prevalgono sulle nuove imprese di 18 unità e il tessuto artigiano continua lentamente ma inesorabilmente ad assottigliarsi. La storia di questo giovane che vedete nella fotografia adesso del giornale sul Corriere sul Resto del Cardino è la storia di un 23enne, si chiama Matteo Signoretti e che ricostruisce i drammatici momenti che ha vissuto sabato notte fuori dalla discoteca di Montecchio, siamo sempre nel pesarese. Lui dice sono stato buttato a terra, picchiato senza pietà alla testa e nel corpo, non ho reagito e non c'entravo nulla con il litigio che era scoppiato dentro il locale, dentro la discoteca. Quei sei albanesi, dice ancora, potevano ammazzarmi. Allora Davide Eusebi racconta la testimonianza di questo giovane che dice mi potevano ammazzare, pensavo solo ad andare via il primo possibile ma non riuscivo a rialzarmi. Stiamo parlando di questo giovane che era già fuori dalla discoteca, nel parcheggio, insieme a lui c'erano altri due ragazzi, due amici, dice sono andato subito con i miei amici dai carabinieri a Mondolfo ma la caserma era chiusa, allora ho chiamato l'ambulanza e siccome sono un addetto al primo soccorso questo mi ha aiutato a mantenere la calma, anche quando mi picchiavano soprattutto. Uno dei miei amici invece è rimasto in stato di shock, aveva gambe e mani paralizzate, anche l'altro mio compagno era terrorizzato dalla paura. Quando sono arrivato in ospedale l'adrenalina però mi è scesa e quindi ho iniziato a sentire il dolore, il male dappertutto. E poi dice a proposito di quello che gli è successo, chiaramente prendo dei piccoli brani da questo articolo che vi invito a leggere anche per capire un po' come sta andando il mondo. La violenza di questi albanesi è surreale, mi chiedo come si fa a comportarsi come bestie in quel modo. Questo gruppo è un pericolo per tutta Montecchio, spero che le forze dell'ordine li arrestino e che facciano giustizia. Attraverso alcuni di loro, alcuni loro intermediari, mi è stato proposto del denaro per ritirare la denuncia, ma io non ritiro nulla. Quello che è accaduto è gravissimo e non deve accadere ad altri. Questo è il racconto appunto di questo giovane Matteo Signoretti che ha ricostruito tutto quello che gli è successo, a lui è andata bene. Spaccio controllato dagli albanesi, qui invece siamo a Fano, caccia aperta al grossista di cocaina, il disoccupato arrestato ritenuto un personaggio intermedio, indicazioni preziose nella sua agenda fitta di nomi. Stiamo parlando di quella coppia, di quella giovane coppia fanese, un 25enne di origine albanese e una commessa di 22 anni che è stata questa coppia rinchiusa nel carcere a Villa Fastigi di Pesaro dopo l'arresto per detenzione di fini di droga ai fini di spaccio. I carabinieri hanno imboccato la pista albanese perché al di là della vicenda specifica risalente a sabato scorso, ricorderete quando i carabinieri hanno trovato in fondo a Via Papiri in un campo di girasoli sotterrato tutta questa stupefacente eccetera eccetera. Secondo gli investigatori c'è un'indicazione di carattere generale fornita ormai da tempo dai risultati delle indagini che portano appunto a questa pista di albanesi. Le partite di droga smistate nella vicina Romagna, molto vivace invece il consumo anche a Fano. Nei guai c'è finita anche appunto la fidanzata di 22 anni in questa operazione dei carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Fano affiancati dai militi della stazione di Fano e Terre Roveresche che hanno arrestato questa commessa di 22 anni che risulta incensurata. Ricevuta la segnalazione di un cittadino, i militari si sono appostati vicino ad un campo di girasole nelle campagne fanesi dove era stata notata la frequente presenza di questi due giovani che abitano in un bilocale nel centro storico. Li hanno visti arrivare ed entrare nel campo, in questo campo di girasoli. Il 25enne avrebbe dissotterrato qualche cosa mentre alla sua compagna è stato attribuito il ruolo di vedetta. Poi il resto della droga è stato recuperato nel campo di girasoli dal cane Juan, lo ricorderete, il cane antidroga. Di taglio basso nella pagina di Fano del Corriere Adriatico si parla della visita della Ministra Teresa Bellanova, Ministra dell'Agricoltura, che ieri ha visitato le Marche, in particolare Ancone, poi ha fatto un salto anche a Fano insieme al consigliere regionale uscente, che si ricandida con Italia Viva, Federico Talè. E lui dice, Talè, giudicatemi per quello che ho fatto, approvate 28 leggi che portano il mio nome. Il re della Thailandia fa shopping invece di yacht, rama decimo in città per seguire l'allestimento di un Azimut di 23 metri, caratteristiche importanti, tecnologie e telecomunicazioni di altissimo livello. Ronaldo è sceso in elicottero, scrive Gennari sul giornale di questa mattina, è sceso in elicottero alla Marina dei Cesari per vedere uno yacht di Azimut. Vero che ha comprato un Azimut dello stesso modello che costruiscono anche in città, ma tutto il resto fa parte delle cosiddette leggende metropolitane. Quindi Ronaldo, sì, ha comprato un Azimut, ma non qua. È invece vero che in città a Fano, nel corso dell'inverno e prima che scattasse il lockdown, il Monarca, che la rivista americana Forbes, quella che fa i conti in tasca ai peperoni di tutto il mondo, ha classificato come il re più ricco del pianeta, con un patrimonio di 30 miliardi di dollari, sì, lui sì, è vero che è venuto a Fano. Rama X, discreto, con lo yacht per quanto non lo sia nella vita, perché gira solitamente con una ventina di concubine, oltre a tutto il personale di servizio e di sicurezza. Insomma, fa il re. Cosa deve fare? Fa il re. E quindi? Fa il re. È comunque forse il personaggio più ricco, questo signore che vedete nella fotografia, è famoso, capitato in città negli ultimi mesi. Sicuramente il secondo re, capitato a queste latitudini per fare shopping dopo i reali del Belgio, giunti a Pesaro, quando Mocchi iniziava la sua avventura nel campo degli yacht. Insomma, momenti di celebrità per la Marina dei Cesari e anche per Azimut, che solo nello stabilimento cittadino ha costruito e messo in acqua una trentina di yacht. E con lui c'era anche colei che poi è diventata quella che poi è diventata la sua sposa, ha cenato in un ristorante e questo è quello che emerge questa mattina sul giornale. È una notizia che è trapelata, che è sfuggita evidentemente a qualche bocca, che non è riuscito a trattenersi. Piovono invece acqua, grandine e disagi, è l'altro titolo con la fotografia di questi chicchi di ghiaccio che sono scesi, erano veramente così grandi ieri, quelli che sono scesi e caduti giù con tanta violenza sulle nostre teste, sulle nostre automobili, ieri, ieri intorno alle tredici appunto. Sul literale da Metaurelia Marotta ha imperversato il maltempo in tutta la sua figuria, i chicchi grandine come ciliegie. E questo è un po' il racconto in breve di quello che è successo nella giornata di ieri, strade allagate, sottopassi abbiamo visto allagate e quant'altro. Si parla dell'inizio della scuola, sulla pagina sempre del Carlino di Fano di questa mattina, la campanella è vicina e 5 stelle chiedono lumi. La rimodulazione degli spazi per nidi, scuole dell'infanzia e materne nel rispetto delle norme anti-covid. Il Movimento 5 Stelle lancia però l'allarme. A poco più di un mese dagli inizi, dal suolo della campanella, l'amministrazione, dicono i 5 stelle, non ha ancora praticamente deciso nulla. Ma in comune ai dubbi sugli inizi dell'anno dovrebbe rispondere il Ministro Grillino. L'intervento del portavoce Simone Ugoccioni. Scuola, la situazione fluida, ancora nulla di programmato, sempre da Fano ma questa volta da Corriere Adriatico. Il Movimento 5 Stelle giudica insoddisfacenti le risposte di mascarine su asilo, infanzia e primaria. Niente certezze su sedi, rapporto tra insegnante e bambini e servizio a poco più di un mese dall'inizio, dal via. E poi sempre sul Carlino andiamo a Pesaro. La via Lamarca, il ponte fa ancora acqua, l'ingegnere però dice mancano i giunti, il tecnico del comune e l'assessore Belloni fanno il punto e parlano delle infiltrazioni. Sarà tutto ok con l'intervento dei primi di settembre. Entro la settimana si riapre anche il tratto di strada sottostante. Intanto diverse segnalazioni dopo la pioggia di ieri sono arrivate per queste infiltrazioni ma il comune rassicura un paio di giorni per risolvere praticamente tutto quanto. Mancano i giunti sull'asfalto, una volta posizionati non ci saranno più queste infiltrazioni. Ricci rimuove invece la targa dedicata a Bettino Craxi e Maraio se la prende con la polizia. I comunisti italiani chiedono la rimozione, lo sdegno del segretario nazionale, dei socialisti. Gabucci colpito dallo spettacolo indegno antidemocratico dell'inaugurazione, quando in tanti hanno protestato li vedete proprio alle spalle dei socialisti, di coloro che invece erano lì per scoprire questa targa, tra cui il figlio di Bettino Craxi Bobo e Claudio Martelli. Poi qui il sindaco di Pesero Matteo Ricci e si intravede, lo cerchiamo qui con il rosso, si intravede anche il sindaco di Fano Massimo Seri, che come tutti sanno ha un trascorso socialista, ma evidentemente se era lì ancora il cuore batte da quella parte là. La nuova app invece sulle buche non funziona, o meglio funziona? C'è un punto di domanda, quello del Corriere Adriatico di questa mattina, a proposito dell'app che i pesaresi hanno scaricato, ma che a quanto pare utilizzano non proprio in modo corretto. Perché? Perché al posto di segnalare le buche, molti, ovvero il 30% di queste denunce che arrivano attraverso l'app, sono in realtà per segnalare i rifiuti abbandonati. Ecco, questo chiaramente non serve, non c'entra e quindi il Mobility Pro rileva una fissazione per i rifiuti abbandonati. Quindi il 30% di queste denunce sono praticamente fuori tema. Sulla pagina di Urbino invece del resto del Carlino si parla di turismo al tempo del Covid e i dati sono interessanti e anche la fotografia fa capire come stanno andando le cose a Urbino. Guardate quanta gente che c'è in fila per entrare al Palazzo Ducale, insomma quindi i dati sono incoraggianti. Gli accessi al Palazzo Ducale sono gli stessi del pre-pandemia e per la mostra su Castiglione e Raffaello già 3.000 ingressi. Entro settembre, dice l'assessore Cioppi, vorrei pronta la programmazione per il periodo natalizio. Mentre sulla pagina di Urbino, anche qui però del Corriere Adriatico, ecco forse la fotografia qui rende più l'idea perché dà una prospettiva diversa. Guardate che bella verrebbe da dire, bella fila che insomma ci dà speranza. Turisti in fila per 300 metri, merito della pianificazione. Ora questa fila qua non c'è neanche in questo periodo ai Musei Vaticani, qualcuno me lo diceva l'altro giorno, e quindi vederla al Palazzo Ducale e fuori dal Palazzo Ducale insomma fa ben sperare. E il neossessore al turismo Cioppi ringrazio all'ex Crescentini, merito della pianificazione, grande afflusso appunto per Raffaello. Mentre Elisabetta Foschi lancia la corsa elettorale della giornalista Lara Ottaviani alle regionali con la lista di Forza Italia e dei civici. Ok, poi sotto Scaramucci, candidato unitario delle zone interne, la sezione dell'entroterra del PD con l'ex segretaria dopo l'attacco di Pedinelli, mentre sull'altra pagina, quella di Senigallia del Corriere Adriatico, la fotografia riguarda le mura, le mura della Rocca che sono state imbrattate, lo vedete con della vernice spray, eccola qua. Quindi sono state da alcuni teppisti con le bombolette. Dopo l'adozione in giunta della variante per la riqualificazione del parterre del monumento simbolo è arrivata anche purtroppo questo imbrattamento. C'è un imbrattamento qui ma ce n'è un altro anche qua. Queste sono le mura della Rocca. Ancora siamo in chiusura dalla Valle del Metauro, sempre dal Corriere, alleati e avversari contro Aguzzi. Lo faccio per voi. Polemica per la candidatura in Regione del Sindaco. Il PD promise il contrario. Quando una forza politica e un candidato Presidente alla Regione, probabilmente vincente alle prossime elezioni, propone ad un Sindaco di candidarsi, non lo fa se quest'ultimo non ha dimostrato capacità amministrative. Il fatto che io abbia accettato questa sfida dovrebbe essere un punto d'orgoglio per l'intero comune di Colli al Metauro, che proprio grazie a questa candidatura, ad una mia possibile elezione, vedrà il suo primo cittadino portare l'esperienza e la conoscenza di questo territorio in istituzioni superiori, quindi il Consiglio regionale, dando indubbiamente forte beneficio in tutto il territorio provinciale. Santa Maria Nuova conferma invece i concerti d'organo dal 1962 senza interruzioni. Ecco le serate e gli interpreti. Chiudiamo con la notizia del Fano, del Fano che finisce nelle mani di Offidani, lo vedete qui nella fotografia. Il patron Gabellini lascia dopo nove anni e vende il 100% dell'Alma Juventus Fano a questo imprenditore nato a Toronto e da tempo residente a San Benedetto del Tronto. Una bomba, qualcuno parla di bomba inaspettata, beh io direi non tanto visto che Gabellini ogni tre per due ha provato in questi mesi, in questi anni a mollare il Fano. Di buono c'è che ha aspettato probabilmente di darlo a una persona di cui si fidava. Ora non si sa nulla di questo Enrico Fattoffi Dani, si sa solo che lavora nel settore immobiliare in America e in Sud America. Ecco, quindi questa è l'unica cosa che si sa, ma ne sapremo sicuramente qualcosa di più nei prossimi giorni. Ora il tempo è scaduto, non c'è tempo per nulla, solo per i saluti, per dirvi l'appuntamento di questa sera. Adesso c'è la Santa Messa da Loreto, vi auguro una buona giornata e un buon proseguimento con i programmi di Fano TV. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.